da questo punto di vista io credo che oggi l'unica posizione sostenibile è quella che ormai sempre da sempre purtroppo da solo continua a professare il santo padre cioè che si debba andare verso una tregua verso negoziati si è tentata la strada del supporto militare perché è un anno che stiamo supportando l'ucraina purtroppo si era detto supportiamo militarmente l'ucraina e nel frattempo facciamo partire i negoziati questo nel frattempo non ci è mai stato non non ci sono mai stati dei negoziati di pace oggi addirittura c'è un escalation c'è un tema importante il cardinal zuppi invece oggi è andato comunque in ucraina e allora io dico che forse in questo momento occorrerebbe tutti ascoltare di più il santo padre fico a pausa per te